Musica Ben trovati cari amici Globus Television, tanto nella Guglielmino, ecco le notizie di Globus, iniziamo subito con la prima. Catania diventa straordinario scenario di arte e cultura, luogo ideale per valorizzare arti visive e sceniche. Wonder Time Catania, in programma dal 9 settembre al 9 ottobre 2017, è il progetto ideato da Rossella Pezzino De Geronimo, con lo scopo di dare l'opportunità di scoprire con occhi nuovi le potenzialità architettoniche e paesaggistiche di luoghi del centro storico non a tutti noti, e per incentivare il turismo e il commercio. Il programma prevede mostre, concerti, workshop, aperitivi d'artista, performance di danza e spettacoli teatrali, a cura di importanti compagnie siciliane in vari luoghi della città. Sarà allestita la prima mostra d'arte contemporanea diffusa in Sicilia, con opere di scultura, pittura e fotografia di artisti di fama nazionale e internazionale, con il contributo del Fondo Ambiente Italiano, della Soprintendenza e Beni Culturali di Catania, del Polo Museale di Catania e il patrocinio dell'Università degli Studi di Catania, con il sostegno del magnifico Rettore Francesco Basile, della Sovrintendente e Beni Culturali Mirella Patanè, del Direttore del Polo Museale Maria Costanza Lentini e del Presidente dell'Istituto Ardizione Gioieni, Giampiero Pambini. La mostra sarà estesa in vari spazi e luoghi lungo le vie del centro storico del Capoluogo Etneo, all'interno del cui suoi palazzi storici, nei templi dell'arte, quali musei e gallerie, ma anche all'interno di ristoranti, negozi di design e di moda. Parliamo di teatro. Cala il sipario sulla rassegna qui estate, organizzata dal Teatro dei Tre Messieri di Messina. Giovedì 31 agosto alle ore 21.30, protagonista dell'ultimo spettacolo della manifestazione estiva, saranno le attrici Milena Bartolone, Gabriella Cacia e Delvira Ghirlanda, con la commedia noir Vecchia a chi? Il tempo della mela. Luci di Giovanna Verdelli e la regia di Marco Antonio Pinizzotto. Nella cucina di casa, nonna, figlia e nipote provano a far convivere le proprie esistenze ed attenuare l'impatto dello scontro tra i rispettivi fallimenti generazionali. Una illusa e lacerata dal boom economico, un'altra sconfitta dall'idealismo, una incapace di emanciparsi e di intessere relazioni che non siano patologiche. La rassegna, qui è estate, che ha la direzione amministrativa di Angelo Di Mattia, la direzione artistica di Stefano Cutrupi per il teatro e di Sara Lanza per la danza. Cambiamo argomento, summit della bellezza nazionale in Sicilia, il comune di Acireale nel Catanese ha ospitato la finale nazionale del concorso Miss Venere 2017, che si è svolto in contemporanea al concorso La Venere dell'Etna. In scena sulla passarella bellezza e talento per le ragazze provenienti da tutta Italia, giudicate da una commissione di professionisti del settore della moda e del mondo dello spettacolo. Tra i presenti l'attore Fabio Boga, interprete di Amore Criminale e nella fiction del commissario Montalbano, ed ancora l'allego e fantasioso boss dei pre-diciottesimi Gianni Muscolini. Nella storica piazza Duomo di Acireale, lo scorso 27 agosto, dinanzi a circa 3.000 spettatori, è stata proclamata la vincitrice del concorso, che è Carmen Musso, di 17 anni, di Parma. Sinuosi e affascinante studentessa, ha mostrato alla giuria le sue qualità di perfetta Venere 2017. Saranno Sparello di Serego Alighieri e Antoine de Gabrielli, discendenti dai due storici protagonisti del Medioevo italiano, ad incontrarsi al Festival del Medioevo d'Europa, che si svolgerà il 29 settembre a Gubbio. Ma non solo il tutto, conoscendo il retroscena storico, e cioè che Cante Gabrielli condannò all'esilio proprio Dante Alighieri. Dunque ci si chiede cosa accadrà a distanza di nove secoli da quei fatti che vignero protagonisti loro antenati. Torneranno a vivere le vicende tormentate che sconvolsero la vita del poeta Dante Alighieri e segnarono le sorti della letteratura grazie alla creazione del capovolo immortale della Divina Commedia, scritta nei 19 anni di esilio lontano da Firenze. Fai infatti Cante Gabrielli da Gubbio a condannarlo, in veste di potestà di Firenze nel 1302, all'esilio e alla confisca dei beni. Per la prima volta si ritroveranno faccia a faccia i discendenti dei due illustri personaggi. A condurre l'incontro a Gubbio, venerdì 29 settembre, sarà la giornalista e scrittrice Anna Buoninsegni Sartori, autrice di un testo teatrale rappresentato per la prima volta lo scorso anno, proprio durante il Festival del Medioevo. Per celebrare il leggendario concerto, parliamo di musica sold out, che è il Pearl Jam, il 20 e il 22 agosto del 2016, durante la storica stagione della World Series Champions Ship dei Chicago Coupes, la band pubblicherà il documentario Let's Play 2, accompagnato dalla colonna sonora. La colonna sonora, in versione CD e LP, sarà nei negozi tradizionali e negli store digitali dal 29 settembre, in concomitanza con l'uscita del documentario nei cinema americani, ed è già disponibile per il pre-order, mentre il documentario sarà disponibile in DVD e Blu-ray dal 17 novembre. Let's Play 2 è stato diretto dal regista e fotografo Danny Clinch, è prodotto dalla Monkerwage Production, la Tergex Production, Universal Music Publishing Group, le Public Records, Fox Records, e la Major League Baseball, in collaborazione con Milk Film e Polygram Entertainment. Questa è la nostra ultima notizia, grazie l'attenzione e alla prossima edizione.